In studio Valentina Frasca. Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di video mediterraneo. In apertura parliamo del caro carburanti. Dal primo gennaio infatti sono terminati tutti gli sconti governativi e il prezzo è salito veramente alle stelle. Se i numeri della Lotteria Italia ci hanno fatto sognare, questi numeri invece ci fanno veramente impaurire. Una situazione drammatica. Stiamo parlando dell'aumento dei prezzi del gasolio e della benzina. Un vero incubo per gli automobilisti. Sentiamoli. Io credo che sia irragionevole tutto quello che sta succedendo, a prescindere da tutti i livelli e a prescindere dal lavoro che si fa. Però è il mio pensiero personale. E qual è il messaggio che vorrò dare al governo? Che vorrei dare io al governo? Sinceramente credo che stiano lavorando poco per il popolo, a prescindere, a tutti i livelli. E credo che dovrebbero pensare un po' di più a quello che è il bene di tutti piuttosto che il proprio. Questa macchina fa 7 al litro, perciò consuma tanto e i problemi sono tanti. Con un'azienda che uno ha deve mantenere tanti furgoni, camion, non si esce più. Siamo messi veramente, veramente male. Per un'azienda si parla almeno di 800 euro in più al mese rispetto all'anno scorso. Quindi pensate un po' a chi andrà a finire questo rincaro necessariamente. Perché i clienti non pagano, quindi poi alla fine è l'azienda che deve subire questo aumento incondizionato. Ma che ce l'ha la colpa di tutto questo, dal suo punto di vista? Con chi ce la dobbiamo prendere? Con tutto il sistema. Ormai è diventato veramente impossibile. Probabilmente solo una speculazione che non ha senso. E sui prezzi dei carburanti parte una nuova offensiva legale del Codacons che chiama in causa l'antitrust chiedendo di indagare per possibile intesa anticoncorrenza. Chiediamo al governo, ha dichiarato il segretario nazionale Francesco Tanasi, di estendere gli ambiti di applicazione della legge 231 del 2005 che vieta gli aumenti eccessivi dei prezzi al dettaglio nel settore agroalimentare e anche al settore dei carburanti. Invitiamo gli automobilisti, conclude poi Tanasi, a verificare i prezzi sul proprio territorio. E quindi dunque, dicevamo, prezzi dei carburanti letteralmente fuori controllo, soprattutto dopo lo stop al taglio delle accise e a questo punto scattano i controlli allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati. Noi abbiamo intervistato il dottor Roberto Cellini, direttore del Dipartimento di Economia e Impresa all'Università di Catania. Sentite cosa ha detto a Lucio Di Mauro. Siamo con l'economista Roberto Cellini, affrontiamo ancora una volta il problema caro prezzi gasolio e benzina. Come sappiamo dal 1 gennaio sono terminati tutti gli scondi governativi, ma con lei volevo affrontare un po' il discorso leggermente entrando nel merito. Le accise, gli aumenti e come funzionano? Le accise sono semplicemente tasse che si sono succedute nel tempo sulla benzina. Il governo Monti nella scorsa primavera decise di ridurre alcune di queste accise, cioè di sospenderle proprio per venire incontro al caro prezzi. Il governo, l'ultimo, nella finanziaria ha deciso altre scelte per finanziare cuneo fiscale, flat tax, non ha rinnovato la sospensione di queste accise. Quindi il gradino nel prezzo che abbiamo visto il 1 gennaio è imputabile esattamente al fatto che sono ritornate in vigore le accise sulla benzina, che sono tra le più alte d'Europa. E questo naturalmente ha determinato un salto nel livello dei prezzi. Va però aggiunto anche che i prezzi vengono determinati anche dal costo delle materie prime, dai processi di lavorazione, da eventuali, che sarebbero illegittime peraltro, accordi tra le compagnie distributrici, su cui è opportuno che si faccia una investigazione. Esattamente come è stata fatta per l'energia elettrica. Il sospetto che ci siano accordi collusivi tra le compagnie per aumentare i prezzi non è infondato. Anche se, dobbiamo dire, questa è sicuramente una scelta politica, quindi questo controllo forse è giusto che ci sia. Certo, la sospensione o meno delle accise è una scelta politica. Si debbono fare delle scelte, abbiamo dei vincoli di bilancio pubblico, se si taglia o si dà un beneficio da una parte bisogna trovare le risorse dall'altra. Un terreno diverso è ovviamente la concorrenza. Noi dobbiamo assicurare una sana concorrenza tra le compagnie distributrici ed evitare che si facciano accordi collusivi a danno dei consumatori. Parliamo adesso dell'emergenza immigrazione. C'è attesa l'agrigento dove nel pomeriggio arriverà il ministro dell'interno Matteo Piantedosi che parteciperà al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza indetto dalla Prefettura. E intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi e contestualmente anche i trasferimenti dei migranti. Sentiamo. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà nel pomeriggio d'agrigento dove parteciperà al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Saranno presenti anche il capo della Polizia Lamberto Giannini e il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino che aveva chiesto un intervento del Governo nazionale. Si parlerà anche di immigrazione alla luce dei numerosi sbarchi che probabilmente a causa delle condizioni meteo-marine avverse dovrebbero interrompersi almeno per qualche giorno. Intanto sono 884 i migranti ospiti all'hotspot a fronte di 398 disponibili. Ieri sera con il traghetto di linea sono stati trasferiti 202 ospiti. E sempre ieri 36 migranti, fra 9 donne e 2 minori, sono stati rintracciati sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli a Lampedusa dai militari della tenenza della Guardia di Finanza. L'imbarcazione al momento non è stata ancora rinvenuta. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia e di essere originari di Costa d'Avorio, Camerun e Gambia. Tutti sono già stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola. Oltre 3 milioni e mezzo per una mostra promozionale della Sicilia durante il Festival del Cinema di Cannes. Si attende la consegna della relazione da parte dell'assessore regionale al turismo Francesco Scarpinato al presidente della regione Renato Schifani in merito all'evento Sicily Women and Cinema che dovrebbe pubblicizzare per l'appunto la Sicilia in occasione delle settimane del festival. Ma c'è qualcosa che non va. La procura della Corte dei Conti della regione infatti ha aperto un fascicolo per vederci chiaro mentre il Partito Democratico parla di spese vergognose. Parlerò con la stampa senza sottrarmi ad alcun confronto solo dopo aver conferito con il presidente della regione siciliana Renato Schifani al quale consegnerò con la massima urgenza dettagliata relazione. Sono le parole dell'assessore regionale al turismo sport e spettacolo Francesco Scarpinato che affida ad una breve nota la risposta agli ultimi interrogativi relativi all'impiego di 3,7 milioni di euro per l'evento Sicily Women and Cinema che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia anche con una mostra fotografica al Festival Cinematografico di Cannes. Progetto riaffidato ad una società lussemburghese la stessa che ha curato l'evento l'anno scorso per una spesa di 2,2 milioni di euro. Una vicenda che ha scatenato parecchie polemiche per l'ingente impiego di somme sulla quale la procura della Corte dei Conti della regione siciliana guidata da Pino Zingale ha aperto un fascicolo. Richiesta di chiarimenti con una relazione dettagliata sul finanziamento è stata avanzata dal presidente Schifani. La vicenda è stata sollevata in un'interrogazione all'Ars dai parlamentari del PD che parlano di spesa vergognosa. È intervenuto il presidente della regione chiedendo l'UMI all'assessore e lì già abbiamo capito che si erano confusi dimenticando che forse sono un'unica giunta e dovrebbe sapere quello che fa la mano destra e dovrebbe sapere quello che fa la mano sinistra. I soldi che noi potremmo utilizzare per cose diverse per sostegno alle imprese turistiche visto che si parla di turismo per comprare apparecchiatori sanitari. Una cosa è sicura l'inopportunità è no palese è più che palese è proprio vergognosa. 22 anni da precari e più di un anno in piazza per protestare sono gli ex PIP che chiedono di essere stabilizzati. Questa mattina hanno alzato nuovamente la voce a Palermo e hanno chiesto un incontro con il presidente della regione. Sono precari da oltre 20 anni ed operano nei vari rami della pubblica amministrazione e dei servizi inseguendo vane promesse di stabilizzazione. Per questo si definiscono i lavoratori in nero della regione. Sono gli ex PIP che oggi sono tornati a protestare a Palermo e a chiedere un incontro con il presidente della regione Renato Schifani. Annunciati anche cinque giorni di protesta dopo che il governo regionale con deliberazione di giunta del 19 dicembre ha ridotto fino al 2025 la spesa annuale per gli ex PIP da 31 a 26 milioni. Si tratta del disegno di legge della finanziaria regionale che entro fine mese dovrebbe essere approvato dall'ARS. Dobbiamo evitare ad ogni costo che venga depauperato il capitolo di spesa che a loro compete quindi i famosi 31 milioni di euro stanziati per i PIP devono essere almeno quelli riconfermati perché altrimenti non si possono pagare gli stipendi. Sono lavoratori che fanno sei ore di lavoro al giorno fianco a fianco con altri dipendenti molto spesso dipendenti regionali fanno le stesse mansioni con tanti doveri e pochi diritti. Eppure la legge c'è e nei mesi scorsi le organizzazioni sindacali si erano attivate per chiedere al Dipartimento regionale del lavoro che le economie di spesa relative all'anno 2022 venissero impegnate per i processi di stabilizzazione e ricollocazione ma ad oggi tutto tace. Siamo stanchi ci hanno riconosciuto una legge perché non ci stradano su questo percorso non siamo riconosciuti da niente e da nessuno non siamo né sussidiati né lavoratori siamo in tutti gli uffici pubblici negli ospedali nelle portinerie siamo ben integrati a volte sussiduiamo pure i dirigenti se proprio la dobbiamo dire tutti se non ci siamo noi in alcune segreterie non parte il protocollo quindi perché non ci viene riconosciuto tutto ciò a livello pensionistico 22 anni dove sono i contributi versati c'è il lavoro nero legalizzato alla regione. Considerati per quanto riguarda i doveri dei dipendenti quasi regionali per quanto riguarda i diritti non siamo niente non siamo nessuno perché quello che noi facciamo lo facciamo con professionalità una professionalità che non ci viene riconosciuta. Si terrà il prossimo 10 marzo la prima udienza al tribunale di Siracusa che vede imputato il sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni sospeso per effetto della legge Severino Gianni si trova ai domiciliari dallo scorso 3 ottobre la procura di Siracusa lo accusa di concussione Giudizio immediato per l'ex assessore regionale sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni che dal 3 ottobre scorso si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di istigazione alla corruzione tentata concussione concussione falsità materiale ed ideologica in atti pubblici Pippo Gianni è stato sospeso dalla carica di sindaco per effetto della legge Severino la procura di Siracusa lo accusa di aver esercitato pressioni nei confronti di due aziende del polo del petrolchimico per assunzioni Gianni che si presenterà in tribunale il prossimo 10 marzo ha sempre negato le accuse ricostruendo ai magistrati il contesto nel quale sono avvenuti singoli episodi e chiarendo i suoi rapporti con le grandi aziende del polo petrolchimico imprenditori e funzionari comunali che sarebbero stati oggetto di pressioni e minacce l'avvocato difensore di Pippo Gianni Ezechia Paolo Reale ha presentato ricorso al tribunale del riesame di Catania che ha rigettato l'istanza e poi in Cassazione la scelta di dare inizio subito al processo è pienamente condivisibile e consentirà alla difesa di affrontare con il dovuto rigore proprietario il merito delle accuse oggi fondate sugli indizi raccolti durante le indagini ha detto l'avvocato ci si poteva aspettare che il passaggio di fase del processo comportasse anche una valutazione del giudice sull'opportunità di protrarre uno stato di detenzione agli arresti domiciliari la cui durata sembra essersi sufficientemente protratta rispetto alle esigenze che la misura cautelare intende tutelare valuteremo se conclude l'avvocato anche in relazione alle indagini difensive svolte e al ritardo della Cassazione nel fissare l'udienza sulla legittimità del provvedimento che dispone gli arresti di Pippo Gianni sottoporre subito al giudice questo aspetto prima dell'inizio del processo la polizia di Siracusa nel corso dei controlli per il contrasto allo spaccio degli stupefacenti ha arrestato un uomo di 42 anni sorpreso in possesso di 11 dosi di eroina e 2 di hashish l'uomo su disposizione dell'autorità giudiziaria si trova ora agli arresti domiciliari arrestata anche una donna di 65 anni ad Augusta trovata in possesso di 53 grammi di cocaina anche lei è stata sottoposta ai domiciliari e un diciottenne invece in partenza per Venezia è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Catania perché è trovato in possesso di tre involucri contenenti circa 230 grammi di cocaina il giovane durante i controlli ordinari della sicurezza ha fatto scattare la segnalazione acustica insieme alla cocaina gli sono stati sequestrati denaro contante e valuta straniera l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta vuole vederci chiaro sul decesso della donna di 53 anni Antonella Gelardi ed ha aperto un'inchiesta interna chiedendo ai medici che erano di turno tutti i documenti la donna lo ricorderete è morta durante un intervento chirurgico per una occlusione intestinale all'ospedale Sant'Elia sentiamo l'azienda di Caltanissetta interviene dopo la denuncia dei familiari di Antonella Gelardi la donna di 53 anni morta durante un intervento chirurgico all'ospedale Sant'Elia siamo fiduciosi che i nostri sanitari abbiano operato con l'attenzione necessaria ma abbiamo ritenuto opportuno chiedere ai medici una relazione di dettaglio sull'accaduto e quanto dichiarato dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Alessandro Caltagirone che aggiunge siamo vicini alla famiglia per la perdita e riteniamo indispensabile che venga chiarito quanto accaduto i familiari dunque hanno presentato denuncia tramite gli avvocati Giuseppe Panepinto e Massimo Dell'Utri Antonella Gelardi era arrivata all'ospedale Sant'Elia la notte del 5 gennaio e dopo essere stata sottoposta ad accertamenti ad esami diagnostici era stata ricoverata in chirurgia per un'occlusione intestinale secondo quanto raccontato dai familiari le era stato detto che sarebbe stata sottoposta a un intervento il pomeriggio del 5 ma poi l'operazione è stata rinviata ed eseguita l'indomani pomeriggio la donna è morta in sala operatoria per delle complicanze nel momento in cui i medici hanno comunicato il decesso e parenti ci sono stati momenti di tensione che hanno reso necessario l'intervento dei carabinieri poi in serate i parenti hanno presentato la denuncia la salma attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria la procura di Catania ha disposto l'autopsia sul corpo di Vincenzo Zappalà 52 anni deceduto lo scorso 6 gennaio dopo un pestaggio avvenuto ad Altarello frazione di Giarre a chiamare i soccorsi erano state tre donne tra cui la fidanzata dell'uomo alla quale la vittima aveva chiesto aiuto telefonicamente dicendo di essere stato aggredito da una persona un'ambulanza del 118 ha portato il 52enne all'ospedale di Giarre dove però è arrivato già senza vita sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza esterna i carabinieri hanno acquisito le registrazioni di telecamere di videosorveglianza della zona dove si è registrata l'aggressione i carabinieri di Francofonte hanno arrestato un 42enne ritenuto l'autore dell'attentato omicidio avvenuto lo scorso 30 dicembre di un 47enne l'uomo avrebbe agito secondo i militari per vendicare l'aggressione subita dal figlio 13enne colpito alla testa con un sasso che gli ha provocato una ferita il 42enne si vede dalle immagini di videosorveglianza che era andato a prendere una pistola e dopo aver raggiunto per strada il suo avversario ha sparato due colpi che hanno raggiunto la vittima all'addome e alla schiena è stato ritrovato il cadavere di Luigi Di Pietro 58 anni carabiniere in pensione scomparso il 29 dicembre scorso i vigili del fuoco di Siracusa che hanno condotto le ricerche insieme alla protezione civile hanno trovato il corpo ieri mattina a Sortino nel Siracusano le attenzioni dei soccorritori si erano concentrati da giorni in quella zona impervia poco distante dal centro abitato dove viveva il pensionato a lanciare l'allarme era stato il figlio dell'uomo non si esclude alcuna ipotesi nemmeno quella di un suicidio oltre una tonnellata di carne è stata sequestrata dai carabinieri del NAS di Palermo in uno stabilimento di lavorazione e commercio all'ingrosso di carni nel quartiere Brancaccio Ciaculli di Palermo che rifornisce negozi e ristoranti di tutta la provincia la carne non era tracciata e non c'era modo di stabilire dunque né da dove arrivasse né i trattamenti subiti quindi era potenzialmente pericolosa per i consumatori alle termine dei controlli sono state combinate al responsabile della struttura sanzioni per 11.500 euro e lo stabilimento è stato chiuso i NAS con il supporto dei militari di Castelvetrano invece hanno sequestrato per gli stessi motivi 3.950 litri di olio di oliva destinati alla commercializzazione in uno stabilimento della provincia di Trapani il titolare è stato multato per 1.500 euro Covid-19 i nuovi dati Gimbe parlano di casi in aumento in tutta la Sicilia mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose si attesta al 14,5% Dopo le feste di Natale segnate da momenti di incontri e convivialità il Covid rialza la testa in Sicilia dal 30 dicembre al 5 gennaio si evidenzia un aumento dei nuovi casi con un 43,2% in più rispetto alla settimana precedente sopra la media nazionale i posti letto in area medica più 16,1% e crescono anche i casi in terapia intensiva più 4,9% lo rende noto il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe la percentuale di popolazione sopra i 5 anni che non ha ricevuto il vaccino è pari al 13,4% a cui aggiungere la popolazione sotto i 5 anni temporaneamente protetta in quanto guarita da meno di 180 giorni pari allo 0,8% la popolazione che non ha ricevuto la terza dose è pari al 20,2% a cui aggiungere quella guarita da meno di 120 giorni che non può riceverla nell'immediato pari all'1,1% il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 14,5% inferiore alla media italiana del 29,7 i minori tra i 5 e gli 11 anni che non hanno completato il ciclo vaccinale sono il 27,1% a cui aggiungere un 3% con sola prima dose per quanto riguarda i nuovi positivi suddivisi per provincia rispetto alla settimana precedente Ragusa con 319 casi fa segnare un più 36,5% Palermo più 46,1 Messina più 57,5 Siracusa più 51,7 Agrigento più 45,7% Trapani più 34,4 Catania più 36,7 e Caltanissetta più 31% Chiude Enna con 167 nuovi casi più 30,8% rispetto alla settimana precedente C'è la pubblicità adesso tra poco parliamo di Covid influenza salvi e molto altro Bentornati in studio seconda parte del nostro telegiornale in chiusura della prima parte abbiamo parlato dei nuovi dati relativi al Covid 19 e alla luce proprio di quei dati risulta sempre più importante la vaccinazione soprattutto per anziani e soggetti fragili Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità i non vaccinati con età tra i 60 e i 79 anni si espongono ad un rischio maggiore di mortalità in caso di contagio da Covid il rischio è alto tre volte di più rispetto a chi ha fatto due dosi sei volte di più rispetto a chi ha ricevuto la quarta dose da meno di 120 giorni per gli ovari 80 il rischio è 11 volte più alto Assolutamente continuiamo con l'opera di sensibilizzazione rivolta ai fragili per quanto riguarda le vaccinazioni le vaccinazioni in quarta dose ma anche soprattutto con le vaccinazioni in quinta dose è molto importante questo aspetto perché non dobbiamo abbassare la guardia perché in questi ultimi giorni abbiamo un incremento dell'infezione Covid per quanto riguarda il vaccino a domicilio noi io coordino le squadre mobili di vaccinazioni a domicilio per i fragili non ci siamo mai fermati i requisiti per la vaccinazione a domicilio sono relativi alle persone che hanno disabilità in primis gli ultraottantenni ma anche persone che hanno davvero difficoltà a deambulare persone che hanno malattie debilitanti in generale diminuiscono invece i casi di influenza australiana l'influenza stagionale lo rivela il bollettino di sorveglianza di InfluNet continuano a calare i casi di sindrome similinfluenzale in Italia nella settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio sono stati circa 719 mila i contagiati per un totale di 6 milioni 850 mila casi a partire dall'inizio della sorveglianza a metà ottobre lo rivela il bollettino di sorveglianza InfluNet cura dell'istituto superiore di sanità che precisa come il suo andamento sia anticipato rispetto alle precedenti stagioni e con un valore di picco di incidenza superiore a tutti gli anni precedenti durante la 52esima settimana del 2022 1.018 medici sentinella di tutte le regioni ad eccezione della Calabria che non ha attivato la sorveglianza InfluNet hanno inviato dati al Sistema Nazionale di Sorveglianza evidenziando in media 12,2 casi per 1.000 assistiti a fronte del 13,7 della settimana precedente è in calo l'incidenza in tutte le fasce di età tranne negli anziani in cui si osserva un lieve aumento i più colpiti risultano comunque i bambini al di sotto dei 5 anni in cui l'incidenza è pari a 34,6 casi per 1.000 assistiti 42,2 nella settimana precedente Voltiamo decisamente pagina parliamo di saldi per questa prima settimana che è partita con il 2 gennaio il bilancio è decisamente positivo in Sicilia Il bilancio della prima settimana di saldi in Sicilia è complessivamente positivo anche se rispetto allo stesso arco temporale del 2022 l'incremento degli acquisti è piuttosto timido e registra una percentuale compresa tra il 5 e il 10% lo afferma il presidente regionale della confederazione italiana esercenti commercianti salvatore bivona che sottolinea come nei primi giorni di gennaio il trend delle vendite in occasione degli sconti si è stato decisamente lento ma costante nell'aumento con particolare attenzione rivolta alle città dell'isola con i centri storici e gli elementi di attrattività turistica maggiormente rilevanti Palermo Catania Agrigento Siracusa e Ragusa in testa nello specifico sulla scorta delle considerazioni dei commercianti pervenuti all'osservatorio economico dell'associazione di categoria nel capoluogo siciliano le vendite sarebbero caratterizzate da una sensibile ripresa un dinamismo in gran parte legato alla presenza di visitatori sia italiani che stranieri che consentirà ai commercianti di eliminare la merce invenduta l'elemento positivo spiega Bivona è la continuità delle vendite nessun assalto ai negozi ma un interesse assiduo che porta gli acquirenti a spendere cifre non certo rilevanti ma in modo consapevole segnali di ripresa secondo la Cidec giungono soprattutto dal settore dell'artigianato a Palermo gli ultimi mesi del 2022 osserva sono stati caratterizzati da una forte presenza di fiere nel tessuto cittadino in periferia ma è come quest'anno abbiamo ricevuto commenti positivi da parte dei nostri iscritti che hanno partecipato a piccole rassegne dedicate all'oggettistica e alla gastronomia una boccata d'ossigeno conclude il presidente che ha consentito al piccolo commercio di risollevare la china dopo un periodo estremamente problematico ha riaperto dopo quattro anni il teatro comunale di Vittoria un gioiello dell'architettura neoclassica all'inaugurazione ieri mattina alla presenza delle istituzioni il teatro era chiuso dal 2018 per infiltrazioni di acqua che avevano danneggiato le travi della copertura con i lavori di restauro è stato sistemato il tetto alcune capriate sono state restaurate come anche il manto delle tegole e il sistema elettrico è stato messo a norma con una manutenzione straordinaria la serata si è poi conclusa con il concerto dell'orchestra sinfonica delle Bellini di Catania passeggiata per il benessere organizzata dalla vis di Modica ieri presso la piazzetta della circonvallazione ortisiana l'allenamento e il benessere fisico lo scopo della passeggiata che ha visto il sostegno di fondazione con il sud e la collaborazione della dottoressa biologa nutrizionista Maria Chiara Petriglieri una piacevole camminata lungo tutto il percorso della circonvallazione tanti i partecipanti che hanno organizzato all'iniziativa che si colloca tra quelle del progetto Avis ti ascolta ed Avis ti informa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale l'informazione torna nel pomeriggio con le breaking news e poi alle 20 e 30 MTG buona giornata a presto a presto a presto a presto